Personale infermieristico e operatori sociosanitari obbligati a rientrare dalle ferie e dai riposi è un incremento dello straordinario che nel 2018 ha raggiunto quota 86.000 ore. È quanto denunciano i sindacati confederali che hanno lanciato una raccolta firme straordinaria tra i dipendenti dell'Ausle di Imola per sensibilizzare la direzione generale sullo stato di salute dei servizi aziendali. A parte i costi e l'aumento dei costi è una questione anche di qualità del servizio. Infatti la gente viene obbligata a rientrare dalle ferie e a rientrare dai riposi per garantire le presenze necessarie in turno. Per questo motivo abbiamo incontrato l'azienda, abbiamo fatto delle richieste precise che riteniamo vadano nella direzione della qualità dei servizi. La prima richiesta è un piano di assunzioni straordinario. C'è bisogno di gente, c'è bisogno di ragazzi giovani, di ragazze giovani che vengono assunti e possono lavorare dentro all'azienda. Oltre a questa richiesta stiamo chiedendo di sospendere la prassi, di richiamare le persone dalle ferie e dai riposi. L'ultima richiesta è quella di poter fare un regolamento sullo straordinario che dia certezze a tutti, ai dipendenti ma anche all'azienda stessa sulla fruizione dello straordinario. Martedì abbiamo un incontro e proveremo a capire in relazione alle istanze promosse e cosa ci dice l'azienda. Nel mentre stiamo raccogliendo delle firme per certificare la questione e l'entità del problema per cui chiediamo ai dipendenti di firmare la raccolta firme che poi consegneremo al direttore generale Andrea Rossi.